Abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente Rossi, è letto con molta attenzione la comunicazione scritta e tuttora ci stiamo un po' interrogando sui profili dell'integrità psicomorale di quello che è stato scritto e detto. Poi chiederò al collega Quartini in quanto medico di chiarire questo aspetto perché ci sono delle cose che sono sinceramente imbarazzanti. A parte ci tengo a ribadire il concetto che il parere dei tecnici non cambia se il procedimento è nazionale o regionale, il parere dei tecnici è un parere di merito indipendentemente da dove viene svolta la procedura, da dove viene svolto il percorso. Qua viene scritto, leggo la comunicazione del Presidente, ai fini del progetto di qualificazione dell'aeroporto nell'ambito del procedimento di via di competenza statale. La Giunta ritiene opportuno, ora non capisco perché il Presidente è uscito, la Giunta ritiene opportuno fare... Stiamo interrogando sui profili dell'integrità psicomorale, le cito quello che ho detto. Perché non capisco, ora vi argomento. Vi argomento, vi argomento, non vi arrabbiate, vi argomento perché leggerò la dichiarazione di Rossi del 2014, scusate, cosa vi devo dire? Tecnicamente si dice così in ambito medico. Allora, fare proprie le risultate dell'istruttoria tecnica espletata dal nucleo regionale e le considerazioni del medesimo espresso riportate nel citato verbale. Quindi qua il primo punto si dice di fare proprie le risultanze dell'istruttoria. Io leggo l'istruttoria, c'è scritto l'istruttoria dice di proporre alla Giunta regionale di comunicare al Ministero dell'Ambiente e del territorio del mare le considerazioni e le relative criticità e di compatibilità evidenziate nel quadro sinottico, di segnalare le incoerenze urbanistiche. Quindi se uno fa proprio queste considerazioni non può dare un parere favorevole seppur legato a due ulteriori condizioni che noi critichiamo anche nel merito. Queste due condizioni quali sono? Una delle banalità, perché tutte le opere di mitigazione sono già previste nel PIT, non si sta aggiungendo nient'altro. Le opere di mitigazione ci sono già scritte, le avete scritte voi nella precedente legislatura. Il secondo punto è questo osservatorio che storicamente, cito Tommaso, sappiamo quanta pochezza ha questo strumento sul supervisionare queste opere. Però io volevo fare un ragionamento. A parte che i tecnici li paghiamo noi cittadini dando i soldi alla Regione che li paga la Regione e non la Giunta, a differenza di quanto ha dichiarato il Presidente Rossi nella Presidente di legislatura, leggo il rapporto, il trascritto, si dice che si può tradurre dei prospetti dell'Alpat che non è molto amica, come sapete, pur essendo pagata dalla Giunta, è agenzia autonoma ed esprime autonomamente i propri pareri. No, Alpat è pagata dalla Regione, cioè dai cittadini. E per forza, e speriamo che rimanga terza, perché deve garantire la terzietà di indipendezza, esprimersi nel merito dei progetti. Poi dice il Presidente Rossi, nel luglio del 2014, noi presentiamo una pista di 2.000 metri e su questa posizione ci attestiamo. Se presenterà la nuova società per la pista, il progetto definitivo, alla società chiediamo di rispettare i 2.000 metri e quando saremo chiamati all'Enac, ci sono già stata a Roma, e dovremo discutere, discuteremo, nella sede delle conferenze di servizi, i perché sì e perché no. Vogliamo che ci siano condizioni e regole allo sviluppo della pista di Firenze, perché credo che, fermo restando che l'aeroporto c'è già, non abbiamo deciso di mettercelo, è vero che in quella situazione complessiva, dal punto di vista ambientale, ha bisogno di regole in un quadro di integrazione. Quindi lo sviluppo di quell'aeroporto deve avere un limite ed useremo tutti i nostri strumenti in sede di approvazione del progetto definitivo, dice, del progetto definitivo, chiedendo alla società nuova, unica, di rispettare i vincoli urbanistici che adesso mettiamo in sede di Enac e nella conferenza di servizi useremo altri strumenti per dire la nostra con lo scopo di regolare lo sviluppo, perché pensiamo che deve esserci ma regolato invece oggi, a distanza di un anno, non so cosa è successo politicamente, c'è anche una trasformazione degli strumenti di pianificazione. Si introduce questa pianificazione creativa, chiamerei, dove addirittura si dice che possono essere fatte delle varianti agli strumenti urbanistici semplicemente attraverso l'approvazione in conferenza dei servizi di determinate requisiti pianificatori. Ma questa è una cosa inaccettabile. Con questo articolato si mina l'indipendenza della regione, si mina l'autorevolezza, l'autonomia della regione, perché la regione ha delle competenze, fino a oggi, in titolo quinto ci riconosce, delle materie esclusive e concorrenti. Qua diamo la nostra autonomia in pasto a non meglio qualificati interessi nazionali, strategici, tra l'altro ricordo che l'Europa ha definito solo ed esclusivamente l'aeroporto di Pisa come aeroporto strategico nazionale, solo l'aeroporto di Pisa. E quando fa le verifiche le fa solo su aeroporti singoli, non tanto sulla società. Quindi qua ci sono delle incongruenze clamorose. Noi oggi però non intendiamo discutere sulla necessità o meno di realizzare il nuovo aeroporto di Firenze. Su questo, secondo noi, la regione si è già espressa, si è già pronunciata e la sua realizzazione dovrà essere rivalutata alla luce delle novità proposte. Ciò sarà oggetto di discussione nelle opportune sedi, nelle sedi della valutazione dipartamentale e nelle sedi ministeriali. Però le decisioni sono già state fatte, il Consiglio si è espresso nella scorsa legislatura, indicando anche i profili di partecipazione prevista per i cittadini, i limiti della vista. Noi oggi stiamo a chiedere come sia stato possibile per un'opera di così rilevante valore economico e territoriale presentare un progetto che poi un progetto, sappiamo, non è perché è una bozza di progetto, di tale superficialità e approssimazione da indurre tutti i tecnici interessati a dichiarare quanto contenuto nel parere del NUV, del Nucro di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale. Vista l'enormità della cosa, noi oggi stiamo a chiedere chi ha deciso in merito a tutto ciò, chi ha ritenuto giusto che per valutare gli effetti dell'opera dovessero bastare paginate di chiacchierate, di numeri non rappresentativi della realtà del territorio, di affermazioni proposte priva di qualsiasi fondatezza scientifica. Noi oggi stiamo a chiedere, a nome di tutti i cittadini della Toscana, quale ruolo la Regione intende svolgere nella complessa vicenda dell'approvazione e realizzazione dell'opera. E dobbiamo deciderlo oggi, assumendoci la responsabilità, non rimandare di nuovo la palla come se fosse una partita di poker. Qua mi sembra che si sta giocando d'azzardo sulla pelle dei cittadini. Si vuole forse rimarcare, come ben sappiamo, che il parere della Regione non è vincolante, che il Ministero dell'Ambiente che ha titolarità del procedimento potrebbe anche decidere senza di esso. Cioè, lasciamo tutto a mano al Ministero dell'Ambiente, deleghiamo tutto a loro. Oggi non vogliamo prenderci la responsabilità. Noi non ci stiamo. Se fossimo stati noi il Governo di questa Regione, con tutte le problematiche che ha questa Regione, ci saremmo assunti la responsabilità definitiva. Il progetto di Enac è del 2013. Siamo stanchi. Basta. Basta. Quindi, non vogliamo lasciare a altri la responsabilità di queste decisioni, che cravano pesantemente sul nostro territorio. E' bene che si è chiarito che non accettiamo mai che decisioni prese a Tavolino nelle stanze dei Palazzi del Potere possano essere ritenute da qualcuno come le uniche vere decisioni rappresentative delle esigenze di una collettività, facendo per questo a meno di leggi, norme, regolamenti e del necessario confronto con la collettività. Oggi le carte ci dicono che, per quello che dovrebbe essere nel futuro il primo aeroporto interamente nuovo in Italia da 1945, si è deliberatamente scelto di non applicare leggi, norme e regolamenti che indicano senza possibilità di interpretazione la strada da percorrere per giungere legittimamente a decidere sulla messibilità o meno dell'opera. Tutto questo è inaccettabile. Grazie. Grazie. Grazie.